Sesso in gravidanza, sì o no? Sì, ovviamente. Sesso sempre. Sì, sempre no, perché ci sono soprattutto alla fine dove ti senti una balena spiaggiata. No, sempre. Sì, sempre. Non c'è quel momento che sei un po', da papà intendo, da uomo, che può farti un po' impressione, vedere il corpo che cambia, immaginare che… Le l'ho sempre detto, una donna quando è in gravidanza è bellissima sempre. Sì, eh? Tanto. Secondo me è tanto sensuale una donna. Poi è ovvio che c'è il momento che lei si vede distrutta, quant'altro. Così ci facciamo un po' paranoia noi. Però secondo me la donna incinta è bellissima. Sì. Probabilmente tu in quel periodo eri veramente innamorato, perché…